mi sono rotto il cazzo bene è acceso sì bene ma proprio la ciccia tensione c'è aspettiamo ma io non vedo filamenti accesi di nessun tipo niente niente totalmente niente per l'ennesima volta oh abbiamo i filamenti accesi e abbiamo 6,5 oh 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 Comunque ora il problema è un altro Io posso alzare luminosità solo fino a un certo punto, piano piano, altrimenti sparisce. Ecco che si vede qualcosina. Devo alzare piano piano. Ecco, si vede qualcosa. Se la alzo un po' di più, poi mi sparisce piano piano. Però, diciamo che la situazione è così al momento. Ok, te lo rifaccio perché non lo so se si è capito. Praticamente dietro c'è un potenziometro che appena l'ho toccato è caduto un pezzetto. Ed è dentro lì, adesso vedrò. Ed è spuntata l'immagine. Con l'audio. E per cui posso sintonizzare. Ho queste strane righe. Però vabbè, potrebbe essere il fatto che l'antenna è collegata con due fili volanti, così. E... E ok, devo dire che è ok. Adesso vediamo come migliorare la situazione, se è il caso. Adesso vediamo come migliorare la situazione. Pagare la situazione. Il fatto che ha sintonizzato il piatto. Periodo. Uppaccio. Ora vediamo, come migliorare la situazione con l'acqua. Etama. Il riso. Il riso. Ok 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 Grazie a tutti. Buongiorno! Piccolo test umidità. Buongiorno! 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 Buongiorno!